Su crpiemonte.tv sono visibili filmati provenienti dall'archivio storico dell'Istituto Luce. Si segnalano balconata prealpina, inquadrature primaverili e invernali sulle prealpi biellesi lungo la strada panoramica da Trivero a Bielmonte del 1962 per la regia di Edmondo Cancellieri e sali cedulzi a stazione invernale, documentario sullo sci e il turismo bianco di metà del secolo scorso con i quattro moderni impianti che permettono di raggiungere la frazione Clot, il Lago Nero, Sportinia e il Triplex.